Controlli rafforzati e alcol test sulle strade più pericolose e a rischio di incidenti. Dal 16 novembre al 10 gennaio i carabinieri con il supporto della Fondazione Ania per la sicurezza stradale terranno sotto osservazione le strade statali di Postugna in Veneto, Basentana in Basilicata, Pontina e Umbro Laziale. Composti di blocco soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana. È la fase invernale del programma Adotta una strada che quest'estate ha dato buoni risultati con il dimezzamento degli incidenti e l'abbattimento di quelli conferiti. Si tratta di incentivare il numero dei servizi di controllo della circolazione stradale con l'utilizzo anche di narcotest e attività con i precursori che Ania ci mette a disposizione e anche con ovviamente i sistemi di rilevazione della velocità. Guardi, in questo periodo ci sono arrivati i dati ufficiali che fanno riferimento al numero degli incidenti, dei feriti e dei morti relativi all'esercizio 2014. Notiamo rispetto agli anni precedenti che non c'è più questa discesa che era virtuosa degli anni precedenti, adesso intorno alla fine dell'anno siamo quasi ad una stabilizzazione. Questo fatto ci preoccupa e da questo punto di vista quindi riteniamo che sia fondamentale attuare un maggiore impegno in termini di iniziative, di informazione, di sensibilizzazione in maniera tale che questo processo virtuoso che avevamo riuscito a realizzare insieme a tanti altri soggetti, ovviamente istituzionali, possa riprendere il suo corso per poter rispettare questo impegno che l'ONU ci ha dato anche al nostro paese di dimezzare il numero di morti entro il 2020.